La classica, che è più classica non si può. Io mi piace ricordare un fatto che a Teora, io sono di Teora quindi devo spezzare una mezza lancia per Teora, per il Festival delle Serenate. A Teora il 9 agosto facciamo il Festival delle Serenate, sono oramai la tredicesima edizione, quindi si è consolidata, è diventata grande e speriamo di farla diventare ancora più grande. E quando iniziamo le nostre serenate, iniziamo le nostre serenate con questa canzone che Daniela ci farà ascoltare. Grazie. 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 Grazie.